benvenuti in questo mio nuovo video andiamo a vedere come completare la sfida posizione un cristallo dello spirito sul monte più alto sfida molto facile ci basterà andare esattamente qui e bisognerà interagire con il cristallo interagiamo e completiamo la sfida comunque il video finisce qua spero che stia piaciuto mi raccomando lascia un bel mi piace per supportarmi commenta e condividi noi ci vediamo in un prossimo video